Ciao, oggi è il secondo giorno delle attività che vi propongo questa settimana e oggi vi propongo un'attività sensoriale. Facciamo la schiuma colorata, è semplicissima da fare ma vi assicuro che piacerà un sacco ai vostri bambini. Vi ricordo che se vi piace l'attività, la provate e volete farmi vedere mi fa estremamente piacere, mi trovate su Instagram sotto 25withodders. Ma adesso passiamo all'attività. Inserite nel frullatore 50 ml di acqua, due cucchiai di bagno schiuma per bambini e qualche goccia di colorante alimentare. Non dovete fare nient'altro, dovete solo accendere il frullatore a velocità bassa per poi passare a quella media. Dopo circa un minuto la schiuma sarà abbastanza densa da poter versare in un contenitore. Ripetete la stessa procedura per tutti i colori che intendete creare. La vostra schiuma è pronta! Come vi dicevo è un'attività estremamente semplice da creare. Potete proporla ai vostri bambini insieme ad altri strumenti come ciotole e cucchiai, oppure proporla così com'è e stimolare la loro immaginazione. I miei, dopo averla sperimentato un pochino, hanno deciso di usarla per fare un bagno colorato alle loro bambole. se vi è piaciuto questo video lasciate un like, condividetelo e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Domani vi aspetto un nuovo video, vi ricordo di seguirvi su Instagram, quantifywithothers, per sapere che materiali vi serviranno domani. Ciao! Ciao!